Non è andato il secondo test match contro la Slovenia, l'Italia ha perso 3 a 1 e il CT Gian Lorenzo Blengini ha utilizzato gran parte del gruppo. Italia a due velocità, Senso Smani-Vantorrena ha tenuto a riposo con il capitano Ivan Zeise utilizzato solo per due set. Dopo i due persi malamente in campo l'altra Italia, quella che gioca meno, comunque parte importante del gruppo, Azzurro, che ha divertito sfiorato il tie-break. Perdere non piace a nessuno ma c'è ottimismo per la corsa verso i giochi di Tokyo nelle parole dell'opposto. Gabriele Nelli. Non cazzo per il risultato però siamo carichi, siamo nella strada giusta, vogliamo lavorare bene, stiamo lavorando per un obiettivo che tutti noi sappiamo, quindi la strada è lunga, il lavoro è tanto ma siamo sulla strada buona. Tenuti in campo solo due set anche Simone Giannelli dal regista Azzurro però solo sorrisi e parole positive per tutti i suoi compagni. Cavolo sono felicissimo per loro perché ci stanno dando una grossa mano nell'allenamento tutti i giorni, nel corso della partita c'è bisogno dei cambi in tutti i ruoli, quindi questo è essere una squadra, quindi noi cerchiamo di lavorare tutti insieme per un unico obiettivo che è quello di andare all'Olimpiadi ovviamente e abbiamo bisogno di tutti quanti. L'Italia saluta il tutto eserito di Chieti e spedita e concentrata vola verso le qualificazioni olimpiche di Bari, voglia di vincere c'è solo quella nella testa degli Azzurri.